L'ASP di Ragusa rende noto il ripristino della postazione del 118 di Vittoria denominata Romeo Mike 6, presso i locali siti nello stradale per scoglitti che nel mese di gennaio dello scorso anno erano stati interessati da un incendio. In conseguenza dell'accaduto si era reso necessario il trasferimento del servizio di emergenza urgenza presso l'ufficio di Via Giurato a Vittoria. Conclusi i lavori di ristrutturazione, ultimata la verifica igienico-sanitaria con esito favorevole da parte del SIAV, Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, il personale del SEUS 118 è rientrato alla base completando il trasloco della mobilia e delle strumentazioni necessarie. Il commissario stradineo dell'ASP di Ragusa, dottor Giuseppe Drago, esprime soddisfazione e ringrazia quanti si sono spesi per il raggiungimento dell'obiettivo, precisando che in questi mesi, pur nell'indisponibilità dei locali originali, il servizio 118 è stato regolarmente garantito.